Oggi cucineremo un povero deficiente Andiamo! E' la mia specialità Fuoco Fede non ti consiglio? Fuoco Fuoco Sto guardando il disagio di un uomo Gli sto per tirare uno sciame nei denti Non puoi attaccare un fuoco Come cazzo l'hai tirata? Fuoco Perché non ti ha colpito? Ero sicuro che ti avrebbe colpito, era fuoco Io sono Lord e Pizzone Io sono Lord Will Sono il Lord e Pizzone Perché non ho usato la questa cosa? Non mi rottola bene Fate la pace, non fate la guerra Cazzo mi arrivano bombe vicine Aspetta quella bomba lei Gli è passata attraverso ad animal Fuoco Mmm E cari bambini Ora si cucina sul serio Pronti? Ingredienti Fuck Fuck Morire Morire Ok bambini Oggi vi insegno a cucinare Ingredienti Amici Un secondo ingrediente Sal Autismo Autismo Cromosomi Come vuole alla ricetta di Fitti Fitti 30 Dove cazzo sono? Ok Ricordate bambini Per poter cucinare bene Serve il fuoco E' per questo che si fa cucinare il Lord e Pizzone Cosa Contro Fede o contro di me? Io sono il fuoco Ditti c'è Ok Assaggiamolo con la forchetta Cosa Cosa Va tolto dalla pentola Toglietto Toglietto ve l'ho dito Si sta frappretando con vini Se il piatto spara ancora delle api cosa consiglia? Vieni nel piatto Vieni nel piatto Vieni nel piatto Il diavolo fa le pentole ma non questo Assaggiamolo Ti assicuro che è una delizia Attenti perché si può scontare Bambini Cosa stai facendo? Ok ora non mi posso scontare perché ho le presine da forno Fuck Fuck Ok forse va cucinato un po' meglio Ok Guarda che avete acceso il forno Il piatto continua a pulgerti Queste cose marinate Con le punte Bambini ricordate prima di cuocere Bisogna toglierle le punte Cosa? Perché lo sto? Toglio il passo perché non riesco a colpirlo E' un'altra gioca Io il Pasquale lo son fatto per combattervi sei troppo OP per me Aspettate un secondo Mi voglio un'altra idea Se il piatto è troppo grande C'è bisogno Due forcone Oh no Io non ho più speranze ho capito Aiuto mi sta colpendo ovunque Assaggiamoti Cato ma mamma le sporchette le ti insegnate ad usare Sono tipo Molto bene, molto buone Molto bene URB Fuck Fuck Api Api Aiuto Api Le mie api La prova del cuoco sarebbe stata molto più divertente se fosse stata forse Chiudare Il riassunto della prossima puntata della prova del cuoco Umini in armatura chiodata E teste giganti E' detto che vuole ammazzarsi e vincendere e cucinarsi Lui vuole cucinarmi Anzi io ho paura Ciao Aspettate 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 Non scendere Dani Sali su un attimo Sali su un attimo Devo fare una cosa Fuck ho sbagliato No non era questo Ah sto rovinando la battuta Dammi un attimo Ehm No dammi un attimo Ehm Ok Ok pronto Are you not entertained Ehm Imprenditore Presente No Vaffanculo Dani Fuck No Vai giù da Pasqui No Ingredienti Croccante Aspettate Pasqui Tu lo dico di quel livello di Rayman 3 Dove c'era il tizio che era ugualato e la signora che vuole cucinare Rayman Aiuto Quella quel forchettone che ti segui Ingredienti Aspettate Masqui provo a usare il potere speciale del forcone Charge a dritto di seguendo la gente Ma non ho male L'ho sprecato per fare il lord dei tizzoni Sono lord Pasqui e sono re dei tizzoni Ingredienti 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 L'effetto psicologico di dire ingredienti è pericolo Chi cazzo ha lanciato quello? Non è la mia cucina 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 Via Ingredienti Oh no Mi ha cacciato a mo' di blanca Ingredienti 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 Eria We're si ti e furì di testa State combatendo con mezzi proibiti Ahia mi sa che il cibo non è stato macellato bene Ho no Prendete uno sba di carne 1993 Un utensile da cucina che tutti hanno intanto Che roba Ingredienti Se il cibo non è fresco dovete freddarlo voi Freddarlo voi Se il cibo non è fresco dovete freddarlo voi La mia cucina ha terminato Ingredienti Pazzo, va, scusate, mette in avanzo Ricordatevi di avere i vostri utensili da cucina Il comodo accendi fuoco Il martello per schiacciare la carne La forchetta per assaggiare La mannaia per sminuzzare E il vostro piatto di fiducia L'ho messo un po' al centro Quindi magari non si nota Ingredienti, eccoli qui Aspetta, ingrediente L'ho messo un posto più comodo Ok, trovato Ingredienti Pranzo per una persona Aggiungi un po' sta tavola che c'è una Questa arma qua non ti faccio dare Avete bisogno di un giovane ramo bianco Ingredienti Avete bisogno di un cappello da cuoco Un vestito da cuoco E dei guanti da cuoco Tutto il resto Ah, eccoli là, ingredienti Taglio Cioè, sei arrivato? E io Mi sto già osservando Ma da una posizione di sicurezza Ingredienti Ok, partiamo Paz qui? Quello ha un piccone Prima fase Macellare la carne Aspetta un attimo, passo Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Macellare Calmo Calmi Devo cambiare una cosa Seconda fase Diventare una tartarura Non puoi, non puoi uccidermi se sono una tartarura Ingredienti Mi sento pronto Ma ci si riesce a fare una foto panoramica di te sdraiato lì, Dani vestito così e io scuotando Ingredienti Provaci Aspetta Fuck Ma io volevo gli ingredienti Vai, ingredientizza Aspetta, Dani sta Sono pronto Vai, vai, pesta, pesta, guarda che distratto Ingredienti Prima di tutto Accendere il fuoco No, fuck Il fuoco non è acceso Puoi fare un backstab con la torcia Ingredienti Oh, altri ingredienti Sembrano non essere macellati bene Attenzione Ingredienti La prova del cuoco Oh no Allora si bugga dentro il terreno Attenzione Se gli ingredienti combattono indietro Non sono macellati bene Combatti Macellare gli ingredienti Putana Ora che gli ingredienti sono macellati Non secchiare con la fuck E questa termina la nostra lezione della prova del cuoco Ah, altri ingredienti Freschi Andiamo Fase 1 della cottura Cuocere Molto efficavo fa Ingredienti Cosa cazzo No Cosa cazzo Ok, ora che gli ingredienti sono ben cotti Macellare Oh, ma ragio Che solo è passati Ma non è valido se il piatto finisce macellato e poi non lo si può assaggiare Ingredienti Ok, bambini Questa volta mi sono accorto di un errore di cottura Maio Ovviamente non si può macellare la carne troppo Se no la carne muore Che noi non vogliamo cucinare la carne morta Perde sapore Non c'è dolore Ingredienti 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 Da cuoce Vivi Ok No Fuck I will protect the master No Non sono autorizzato dalla confederazione ad attaccare te Ingredienti Aspetta, voglio accendere il forno Ingredienti Oh no, sta cucinando Ma ci può essere un solo cuoco Aio Only one cuoco Stai calmo Ok, stai calmissimo And only one big boss Calmo big boss Calmo Sei pronto per un'altra incredibile sfida? Stavolta ti ho invaso come Jovert Ok Jovert, sono curioso di vederlo Purtroppo non avevo le stat per avere uno stock o altre cazzate Qualsiasi cosa hai fatto Pasqui mi ha buttato fuori malissimo Oh Dani, tu vedi che io ci sono? Dove sei? Sto arrivando Ho rimesso il simbolo della vocazione Spar un secondo Visto che il gioco ha deciso di spararmi via Mi ha fatto get out Get out, normies Rii Comunque la build migliore da sanguinamento è quella con la falce pesante E io non fa Questa è pedal Allora, di nuovo mi ha detto errore di commissione, ok, perfetto Ancora un paio di secondi VARGIAN At last We see each other now Messier Che cazzo stai? Cosa sei? Questa non è VARGIAN Messier Dany You were a different chain Cosa? Ho rievocato il simbolo Qua se dovrebbe essere la parte dove tu dici Mi fuori, sei, non mi ricordi Cazzo non stai neanche seguendo il copione L'ho rimesso il simbolo io Eh però ho rimesso, ho cambiato la posizione il simbolo L'ho appena messo State rovinando il musical Trovo Eccolo qua che è apparso Eccolo qua che è apparso Qui ho appena notato che la cosa di chiecca è una gonnellina da romano Informazioni utili Vedi? Questa armatura è un concetto che dovrebbe essere preso più per il culo su internet Pasqui questi sono guanti a forno Guardali Cosa? No Sì? No Guarda quanto cazzo sono grandi No Questi sono da più leggeri Sono fatti più apposta Nel senso Ok Ok Pronto? Ok Ok Ora Fede Fingiti morto un attimo Fede finiti morto E tu mettiti vicino a lui Dai Sarà perfetta come scello Ok aspetta Fingo morto Ok pronti Pronti Ok sta arrivando Aspetta 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 un secolo Aspetta un secolo Dammi un tempo che mi metto quella versione disperata Eccola qua Questa Quattro Tre Due Uno Oh Jean At last We see each other now Monsieur Lamer You were a different chain Questa è la parte dove dovresti cantare qua adesso Ah Before you say I'm not a word I'm not a word Ok 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 Chi mi vuole affrontare Dani Ok 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 Ora so che ruolo posso fare Io posso fare le suore che c'erano di dentro E correre Ehm 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 No Perché a parte quando salmero non mi fate niente Perché ero fatto Ehm Vorrei che avesse una possibilità Ma in due ce l'abbiamo Oh 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 No please Please I I I ask for mercy I I am asking for mercy Ok no mercy No 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 Fuck Spitti spitti Red pack at this place There is laughing on earth and wish Ehm It is a interval Già non già ver Fuck Ma stai usando solo la tecnica da due Ops Oh Cos'era? Watatatata Oh 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 You Pasqui Che è la miglior arma come arma, ma è la peggior arma che ho io perchè non è potenziata. Che altro ha l'ipox bagata? Ah, dai! Dai dai, ho un paio di colpi. Oh no! Nani, e per questo che si chiama molest? Si chiama molest?